Ecco, quindi perdonatemi, io faccio sempre le domande un po' stupidelle, mi hai incuriosito prima quando continuavi a nominare il Paraguru, riusciresti a farne un identikit? O almeno dire il contrario, cioè come si fa a non esserlo? Allora, il Paraguru è un'espressione che mi sono inventato nei miei articoli all'inizio quando non avevo paura, diciamo, di cosa pensassero i miei lettori perché non c'erano lettori, quindi io scrivo Paraguru e l'altro non mi legge nessuno, tranquillo, però per me l'identikit del Paraguru è il classico fornatore che spesso magari non ha una formazione, forma ma non è formato, generalmente fa degli eventi di intrattenimento sul palco che cercano di coinvolgere emotivamente il pubblico ma di fatto non trasmettono nessuna strategia concreta, quindi ci sono molte luci stroboscopiche e paillette ma poco contenuto. Quindi per me quello è l'identikit del Paraguru, la persona che non ti forma ma semplicemente ti dà il boost emotivo durante il weekend diciamo di formazione ma poi il lunedì non ti rimane nulla e non hai quindi quelle strategie per raggiungere realmente il tuo obiettivo. Se dovessi scegliere due esempi, no? Tanti, due, di procedura alla Paraguru, cioè alla Paraguru, diciamo, cosa scegliere? Qual è la tipica azione del Paraguru? È quello di dirti credici forte, forte, forte. Se ci credi forte, forte, ce la puoi fare. Una cosa molto interessante che leggevo proprio sul libro di Harari, forse Homo Deus, quindi il secondo libro, è che la differenza tra una religione e la scienza è che nella religione le cose per farle funzionare ci devi credere, nella scienza le cose funzionano anche se non ci credi. Ecco, il Paraguru ti dice sempre ci devi credere altrimenti è normale che non raggiungi i tuoi obiettivi. Io invece ho l'ambizione di trasmettere ai miei lettori delle strategie che funzionano anche se non ci credono o anche se all'inizio non sono massimamente motivati. Quindi quella, secondo me, è la differenza chiave.